È una notte qualsiasi del 2007 quando Sophie e Robert decidono di prendere una scorciatoia per tornare a casa. Una scelta che a loro è insaputa, avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Quello che sto per raccontarvi è ciò che succede se lasciamo che l'ignoranza e l'odio vincano contro la gentilezza e l'empatia. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio raccontarvi una storia che non vi farà solo incazzare, vi farà infuriare, ve lo giuro. Io quando ne sono venuto a conoscenza veramente volevo spaccare qualcosa o qualcuno, ma la risposta alla violenza non è mai la violenza. Quindi calmiamoci, siete calmi? Bene, la storia che voglio raccontarvi oggi è quella di Sophie Lancaster, una ragazza alternativa che purtroppo a causa dell'ignoranza e della stupidità di alcune persone ha dovuto passare diciamo dei momenti terrificanti. Prima di cominciare però voglio ricordarvi che sul sito di Pampling trovate le magliette che indosso nei video, come questa, non so se la vedete. Nonché tantissime altre cose strafighe con delle grafiche che io personalmente adoro, veramente, davvero, lo sapete ormai. Ovviamente vi lascio il link in descrizione con anche la promozione della settimana perché ogni settimana il sito fa qualche promozione bellissima. Quindi ricordate anche che inserendo il codice Andrew riceverete anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Detto questo direi di cominciare subito. Sophie nasce il 26 novembre 1986 dai genitori Sylvia e John Lancaster. La ragazza cresce nel Lancashire, una regione a nord-ovest dell'Inghilterra, più precisamente a Backup, un piccolo paesino di circa 12.000 abitanti. Cresce lì insieme ai suoi genitori appunto e a suo fratello, di nome Adam. Sophie da piccola era una bambina molto timida. Quando usciva, generalmente, non parlava molto e se ne stava molto sulle sue, diciamo, mentre a casa sentiva invece di poter tirare fuori la sua vera personalità. Era molto introversa già da piccola, il che l'ha portata a rimanere spesso in camera sua a leggere libri, invece che uscire al parco a giocare con altri bambini. Sua mamma, Sylvia, racconta che ogni volta che tornava a casa da lavoro, puntualmente trovava Sophie seduta al tavolo della cucina con una merendina, un succo di frutta e un libro. E questo la rendeva felice. Diciamo che era la sua comfort routine. Sophie aveva un rapporto bellissimo con sua mamma già dall'infanzia. Le due erano davvero molto legate e ogni volta che qualcuno chiedeva alla piccola Sophie cosa volesse fare da grande, lei rispondeva, sempre, di voler diventare una youth worker, proprio come sua madre. Vi riporto cosa ho trovato sul web riguardo alla figura dello youth worker, che in Italia viene anche chiamato animatore socioeducativo. Si tratta praticamente di un operatore professionista che facilita l'apprendimento e lo sviluppo sociale dei giovani. Una figura che si impegna in diversi spazi e progetti extrascolastici in cui si offrono ai giovani opportunità di apprendimento, crescita personale, sociale e così via. Ad essere sincero non avevo mai sentito parlare di questa figura e informandomi ho scoperto che in realtà in Italia non esiste ancora un inquadramento preciso dello youth worker come forma specifica di lavoro volontario e professionale. Ma piano piano questa mansione sta prendendo sempre più piede nel nostro paese attraverso i centri giovanili o i centri culturali. Comunque a quanto pare in Inghilterra questa è una figura riconosciuta a tutti gli effetti. Crescendo comunque, trascendo questa parte qui, Sophie pian piano riesce ad uscire diciamo dal suo guscio e comincia ad essere più estroversa sicuramente non nei modi ma nell'esprimere se stessa. Durante l'adolescenza infatti in modo particolare scopre il mondo rock punk che da subito le piace da matti. È stato proprio un amore a prima vista. Per via di questo anche la sua personalità e il suo stile cominciano a cambiare. Poi vabbè stava crescendo quindi ovviamente era alla ricerca della sua identità. Sophie quindi comincia a tingersi i capelli di diversi colori, si fa i dreadlocks e comincia a farsi diversi piercing sul viso. Anche il suo abbigliamento cambia radicalmente. Comincia a vestirsi sempre di nero e con vestiti più grandi rispetto alla sua taglia. Insomma si ritrova tantissimo in quel mondo e sente finalmente di aver trovato diciamo una categoria nella quale potersi identificare e potersi soprattutto esprimere liberamente cosa che non aveva mai fatto fino a quel momento. Se non dentro le mura di casa. Ma come sapete purtroppo i pregiudizi sono dietro l'angolo e per questo Sophie comincia ad essere vittima di bullismo, soprattutto a scuola. A lei però diciamo che da subito non importa molto perché come vi dicevo ora ha una categoria alla quale sente di appartenere davvero. E più passa il tempo più la ragazza continua ad esprimersi in questo modo e anche ovviamente a partecipare a vari eventi rock punk della città. Eventi in cui conosce persone che condividono i suoi stessi gusti e le sue stesse passioni. Per cui non passa molto tempo prima che si crei un vero e proprio gruppo di amici che ogni weekend si incontra nei locali per i vari concerti o per le esibizioni live di band punk rock. È proprio in uno di questi contesti che Sophie conosce una persona che la fa perdutamente innamorare. Una persona di nome Robert Maltby. Robert è letteralmente Sophie ma versione maschile e i due anche per questo si innamorano al primo sguardo. Sophie e Robert scoprono di avere praticamente tutto in comune a partire dall'aspetto esteriore, quindi dallo stile e dal modo di vestire, ai gusti musicali fino alla personalità. I due infatti sono entrambi molto introversi per natura e quindi entrambi erano alla ricerca di un gruppo al quale appartenere per sentirsi finalmente parte di qualcosa. Sophie e Robert cominciano quindi a frequentarsi e molto rapidamente il loro rapporto si intensifica, così decidono di ufficializzare la loro relazione. La famiglia di Sophie quando conosce Robert ne rimane in realtà completamente affascinata perché capiscono tutti fin da subito che quello era il ragazzo perfetto per lei. Tuttavia non proprio tutto va nel migliore dei modi perché praticamente da subito la coppia comincia a ricevere vari insulti, anche per strada, da parte di persone che li ritenevano diversi o troppo stravaganti per via del loro stile che veniva e viene ancora definito Gott. Poi erano in un paesino di 12.000 abitanti quindi figuratevi l'ignoranza, l'arretratezza, ne so qualcosa davvero. Comunque Sophie e Robert nonostante tutto riescono a gestire molto bene tutto questo e decidono insieme di fregarsene. Prendono molto alla leggera le critiche rivolte nei loro confronti, anche perché, come abbiamo detto, il loro stile e la loro personalità non li limitavano affatto nel partecipare a eventi e al condurre una vita socialmente attiva, perché appunto appartenevano ad un gruppo che non li giudicava per quelli che erano. Tuttavia quando le critiche e gli insulti verbali si trasformano in vere e proprie aggressioni fisiche, Sophie e Robert cominciano ad avere difficoltà ad ignorare e a gestire la cosa. Robert di natura non era affatto una persona conflittuale e insieme a Sophie cercava sempre di uscire da queste situazioni il più in fretta possibile. Ora apriamo un attimo una parentesi su questo argomento. Siamo nei primi anni 2000 e probabilmente tutta la cultura e la sottocultura Gott erano ancora, diciamo, agli albori, non proprio. Cioè il cosiddetto movimento Gott nasce intorno agli anni 70-80 nel Regno Unito e quindi chiunque facesse parte di questa categoria veniva comunque ritenuto strano. Era ancora una cosa nuova nonostante fossero passati più di 20 anni. Al giorno d'oggi penso che ci sia molta meno discriminazione e più tolleranza, che brutto termine, tolera vabbè, verso quello che consideriamo diverso, tra virgolette. Sicuramente c'è più consapevolezza e penso che in quegli anni fare parte di un movimento che non era ancora riuscito a farsi spazio del tutto nella società doveva essere davvero difficile. Sophie e Robert non parlano con i loro genitori delle discriminazioni che subiscono per via del loro stile e del loro aspetto. Ne parlano solo con il loro gruppo ristretto di amici che sicuramente stavano passando le stesse cose. Ma secondo quanto riportato, i due non si sono nemmeno mai rivolti alla polizia. Vabbè, figuratevi, non ne parlavano con i genitori perché avrebbero dovuto parlarne con la polizia. E non l'hanno fatto neanche a seguito di alcune aggressioni fisiche. Prima di continuare, volevo velocemente ricordarvi di iscrivervi al canale se questi video vi interessano. Anche se pensate di essere iscritti, controllate perché una buona percentuale di persone che guardano i miei video non è iscritta alla fine. E come sapete, l'iscrizione aiuta moltissimo il canale e mi fa anche capire che, insomma, apprezzate i miei contenuti. Detto questo, torniamo subito alla storia. Nel settembre del 2006, Sophie e Robert decidono di cominciare l'università. Ma hanno piani, diciamo, molto diversi l'una dall'altra. Robert vorrebbe cominciare già da subito a frequentare la Manchester School of Art, la scuola di arte, la facoltà di arte. Mentre Sophie, dopo il liceo, decide di prendersi un anno sabbatico e poi cominciare un corso triennale in lingua inglese. Robert così comincia l'università di arte a Manchester, città che dista circa un'ora da backup, ovvero dal luogo in cui vivevano Sophie e Robert. Ma questo in realtà non limita affatto la relazione tra i due, anzi, la rafforza. Sophie comincia a passare gran parte della settimana con Robert a Manchester e piano piano praticamente si trasferisce lì con lui. Cominciano una sorta di convivenza. Le cose per i due, quindi, vanno per il meglio. Vanno proprio meglio che mai, anche perché Manchester era una città, è ancora una città grande e molto più aperta rispetto alla realtà che avevano conosciuto fino a quel momento. Arriviamo così all'estate del 2007. Il primo anno di università per Robert era andato alla grande e lui e Sophie erano più innamorati che mai. La convivenza procedeva a gonfie vele e i due, nel giro di neanche un anno, erano riusciti anche a crearsi un gruppo di amici con cui uscire e condividere le stesse passioni. Durante il mese di agosto, però, la coppia decide di tornare nel Lancashire... Lancashire? Lì? Dalle rispettive famiglie, ecco, per terminare l'estate insieme a loro. Ed è così che arriviamo al 10 agosto. Quella sera un amico della coppia di nome Jonathan li invita a trascorrere la serata da lui per bere in compagnia, ascoltare un po' di musica insieme, così Robert e Sophie si dirigono a casa di Jonathan e insieme passano tutta la serata fino a circa mezzanotte. Verso mezzanotte, poi, la coppia decide di fare rientro a casa. Nessuno dei due aveva la patente, tenete a mente, ed essendo Sophie e Robert comunque dei ragazzi molto prudenti, decidono di tornare a casa a piedi, però velocemente, non passare, insomma, altro tempo in giro di notte da soli. I due quindi salutano tutti gli amici e poco dopo la mezzanotte escono da casa di Jonathan e si incamminano verso le rispettive case, che distavano circa 3 km di distanza da quella di Jonathan. Durante il tragitto decidono di fermarsi un attimo in un market aperto H24 per acquistare dell'alcol e poi continuano per la loro strada. All'uscita del market incontrano un gruppo di ragazze adolescenti che rimangono totalmente affascinate dallo stile della coppia. In particolare apprezzano tantissimo lo stile di Sophie e le fanno una valanga di complimenti sui suoi capelli e sul suo modo di vestire, cosa che succedeva davvero di rado, quindi immagino che lei fosse al settimo cielo. Le ragazze nel gruppo sono abbastanza brille, diciamo, e particolarmente invogliate a conversare. Così la coppia fa un pezzo di strada insieme a loro fino allo Stabili Park. All'entrata del parco Robert e Sophie salutano le ragazze perché avrebbero proseguito proprio all'interno del parco per arrivare a casa. Cioè praticamente passando da lì ci avrebbero messo meno tempo, era praticamente una scorciatoia. I due quindi salutano il gruppo di ragazze e si addentrano nel parco. Già all'entrata però notano che qualcosa era strano perché proprio dove ci sono i cancelli si trovava un gruppo, un altro gruppo di cinque adolescenti, questa volta formato unicamente da maschi intorno ai 16-17 anni. Ecco questi non appena vedono passare Sophie e Robert cominciano a rivolgere loro qualsiasi tipo di insulto immaginabile. La coppia però ormai adulta e abituata ai giudizi per via del loro aspetto decide di ignorare gli insulti e continuare a camminare a testa bassa evitando qualsiasi contatto visivo. Se vi siete già trovati in situazioni simili per qualsiasi motivo sapete che in questi casi la cosa migliore è non guardare in faccia a nessuno e continuare a camminare. Il gruppo di teenager però non sembra comunque voler mollare la presa e comincia letteralmente a seguire i due ragazzi nel parco. Adentrandosi sempre di più tra gli alberi e allontanandosi sempre di più dalla strada e quindi dalle case, dalle abitazioni con le persone. Robert e Sophie arrivano fino allo skate park che si trova più o meno nel centro del parco. E arrivati a questo punto tenete a mente erano passati ormai 10 minuti da quando erano entrati. Quindi da 10 minuti quel gruppo di adolescenti li stava seguendo e per 10 minuti avevano continuato ad insultarli e minacciarli. Nonostante fosse passato tutto quel tempo e loro non avessero minimamente risposto i ragazzi continuano ad infierire. La situazione però si fa molto più tesa quando arrivano nella zona dello skate park perché a quel punto due dei ragazzi del gruppo prendono la rincossa, raggiungono la coppia e uno dei due sferra un pugno in pieno volto a Robert prendendolo alla sprovvista e facendogli così perdere l'equilibrio. Robert indietreggia un po' cercando di riprendere l'equilibrio per non cadere a terra e nel mentre gli scappa tipo una risatina isterica. Da alcune fonti ho letto che il fatto che Robert abbia riso, tra virgolette, dopo il pugno, abbia fatto imbestialire gli aggressori. Ma io penso che Robert non volesse veramente ridere in quel momento e come abbiamo detto la coppia non aveva mai dato peso agli insulti e ai giudizi rivolti per il loro aspetto. Aggiungiamo anche che Robert ormai era adulto, negli anni dell'adolescenza li aveva lasciati alle spalle e per lui quello era solo un gruppo di bulletti adolescenti che cercavano di fare i fighi per impressionarsi a vicenda. Quel gruppo però non sembra voler mollare e prende quella risata come un vero e proprio affronto. E così tutti i membri della banda cominciano ad accanirsi su Robert. Il ragazzo perde l'equilibrio, definitivamente cade a terra e senza avere neanche il tempo di realizzare nulla comincia a prendersi una marea di pugni e di calci ovunque. La banda di ragazzini si accanisce su di lui mentre Sophie comincia a gridare aiuto e urla ai ragazzi di smetterla. Prova anche a mettersi in mezzo ma sono 5 contro 1 e lei non riesce a farli staccare da Robert. Quando si rende conto di essere completamente indifesa di fronte a quella violenza, Sophie può soltanto restare a guardare mentre i 5 ragazzi continuano ad accanirsi sul suo fidanzato e sperando che quei minuti interminabili di violenza finissero in fretta. Nonostante Robert ormai sia a terra e privo di sensi, la banda continua ad infierire fino a quando uno del gruppo non decide che era ora di smettere e facendo agli altri di andarsene. Così i ragazzi si allontanano da Robert che ormai era completamente svenuto a terra. Non appena Sophie ne ha la possibilità striscia verso il suo fidanzato e si aggancia a lui prendendogli la testa tra le braccia come per proteggerlo e inizia a cullarlo mentre piange disperata per la scena di violenza a cui aveva appena assistito. Le grida di aiuto di Sophie si fanno sempre più forti ma purtroppo non attirano nessuno nei dintorni nessuno se non di nuovo quegli stessi ragazzini che in quel momento decidono che Robert non sarebbe stato il loro unico bersaglio. La banda decide di tornare indietro e purtroppo comincia a picchiare anche la povera Sophie con la stessa violenza con cui avevano colpito Robert. La prendono a pugni, le tirano calci e le saltano sulla testa con una violenza inaudita. Mentre l'aggressione è ancora in corso, una ragazza adolescente riesce a sentire le grida di aiuto dall'entrata del parco e da alcune fonti ho letto che questa ragazza faceva parte del gruppo di quelli adolescenti che pochi minuti prima avevano fatto un pezzo di strada insieme a loro. La ragazza comunque chiama i servizi di emergenza mentre l'aggressione è ancora in corso e durante la chiamata si sente la ragazza completamente fuori di sé. Nella chiamata prega l'operatore di fare arrivare subito i soccorsi e la polizia perché una coppia stava venendo brutalmente aggredita nel parco. Mentre questa ragazza, di cui non sappiamo l'identità anche perché si trattava di una ragazza ancora minorenne è ancora in chiamata vede gli aggressori correre via dai corpi stesi a terra di Robert e Sophie. Dopodiché si precipita verso di loro. L'operatore al telefono intanto le dice di aver già mandato un'ambulanza e di descrivergli la situazione che ha davanti ma la ragazza è completamente fuori di sé e dice che Robert e Sophie si trovavano letteralmente su una pozza di sangue avevano il viso gonfio e avevano anche del sangue che usciva loro dal naso e dalle orecchie. La ragazza quindi si toglie la maglietta e ne strappa delle parti avvolgendole sulle ferite più importanti dei due nella speranza di riuscire a fermare le varie emorragie. Robert inizia anche a tossire e così l'operatore dice subito alla ragazza di girarlo sul fianco per evitare che soffocasse col suo stesso sangue. La ragazza esegue tutto ciò che l'uomo le dice mentre aspetta l'arrivo dell'ambulanza e questa parte mi ha fatto davvero venire i brividi perché questa povera ragazza è stata l'angelo custode della coppia e nonostante la sua giovane età nonostante fosse in un parco da sola nel cuore della notte ha deciso di non girarsi dall'altra parte e si è comportata proprio con una maturità che nemmeno molte persone adulte spesso hanno restando a vegliare su Robert e Sophie mentre aspettava l'arrivo dei soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza la ragazza è ancora seduta accanto ai due e ogni tanto controlla loro il polso per verificare se siano ancora in vita. I paramedici trasportano con urgenza la coppia all'ospedale più vicino ed entrambi vengono subito portati in terapia intensiva. Robert viene identificato abbastanza in fretta perché nella tasca posteriore dei suoi jeans aveva la sua carta d'identità ma Sophie non aveva nessun documento con sé e i medici quindi in quel momento non riescono a risalire alla sua identità. Mentre la coppia lotta tra la vita e la morte in ospedale perché voglio puntualizzare che si trovavano davvero in condizioni molto critiche intanto anche due pattuglie di polizia arrivano sul luogo che sarebbe potenzialmente potuto trasformarsi presto in una scena del crimine. Tutto quel casino ovviamente solo adesso attira l'attenzione di diversi curiosi che durante l'aggressione erano nelle vicinanze e avevano sentito il trambusto. La polizia decide di interrogare tutti i presenti sulla scena e alcuni testimoni che poco prima si trovavano nelle vicinanze del parco dicono agli agenti di aver visto un gruppo di ragazzini uscire dal parco con le mani sporche di sangue mentre urlavano frasi del tipo ci sono due pogatori quasi morti lassù vai a vederli sono un vero disastro o robe così tradotto dall'inglese cioè in italiano sono frasi che non direbbe nessuno ma tradotto dall'inglese è così pogatori tra l'altro è un termine che si riferisce alla categoria di persone che ascoltano musica rock e metal giusto per specificare la polizia comunque capisce rapidamente di trovarsi di fronte a un gravissimo caso di aggressione il personale ospedaliero intanto dopo aver messo in coma farmacologico entrambi i ragazzi riferisce che ci sono scarsissime probabilità che entrambi nascano illesi o senza conseguenze gravi le autorità devono partire dalle vittime ovviamente per riuscire ad identificare gli aggressori e al momento hanno solo l'identità di Robert così una pattuglia decide di andare a casa del ragazzo per raccontare ovviamente ai genitori tutto quello che era accaduto e anche per chiedere loro chi fosse l'altra vittima i genitori di Robert senza esitare un secondo rispondono che la ragazza era senza dubbio Sophie Lancaster la fidanzata di Robert la polizia che ora ha finalmente un nome risale all'indirizzo di Sophie per avvisare la famiglia ma quando gli agenti arrivano a casa della ragazza alle prime ore dell'alba non c'è nessuno in casa e questo perché Sylvia la madre era già uscita per andare a lavoro la polizia così decide di contattare telefonicamente la donna ma senza successo per cui alla fine si decide di lasciare un avviso nella cassetta delle lettere in cui chiedevano a Sylvia di contattare subito le autorità non appena fosse tornata a casa la donna al suo rientro nota subito la busta fuoriuscire dalla cassetta delle lettere e notando che Sophie non era ancora tornata a casa pensa al peggio purtroppo i suoi sospetti avranno conferma non appena la donna prende in mano il suo cellulare che quel giorno aveva dimenticato a casa alzandolo nota le decine e decine di chiamate e di messaggi da parte di suo figlio Adam il fratello di Sophie Sylvia richiama subito Adam e lui senza lasciarle neanche il tempo di dire nulla le dice che Sophie quella notte era stata aggredita e che si trovava in terapia intensiva all'ospedale Sylvia quindi si precipita in ospedale per stare insieme a sua figlia e intanto le indagini di polizia si intensificano per trovare i colpevoli vengono convocati alla centrale di polizia numerosi giovani presenti nei dintorni del parco la notte dell'aggressione ma all'inizio gli interrogatori si rivelano un buco nell'acqua lo Stabili Park è un parco che veniva frequentato per la maggior parte da adolescenti e molti di loro all'interrogatorio sembravano non dire tutto quello che avevano visto la notte precedente magari per paura così il detective incaricato di questo caso decide di mandare gli agenti più giovani del distretto a interrogare questi adolescenti nella speranza che magari si sarebbero sentiti più a loro agio parlando con delle persone più vicine alla loro età ecco dalle testimonianze cominciano finalmente a uscire fuori le prime ricostruzioni dell'aggressione i giovani presenti nei dintorni della scena affermano che si è trattata sicuramente di un'aggressione e non di una rissa perché le vittime non erano in cerca di un conflitto e sono state seguite per minuti e minuti e poi attaccate da una banda di adolescenti dalle testimonianze comincia anche a venire fuori che l'aggressione possa ricollegarsi ad un crimine d'odio e questo perché mentre il gruppo picchiava i ragazzi urlavano anche insulti verso di loro insulti come mostri schifosi che non capisco perché vabbè dopo ore di interrogatori e dopo aver visionato le videocamere della zona la polizia comincia a restringere il cerchio e iniziano a venire fuori i primi sospettati Daniel Mullet di 17 anni i fratelli Joseph e Danny Holm di 16 anni e i due più giovani del gruppo Ryan Herbert e Brandon Harris di 15 anni tutti e 5 gli adolescenti vengono arrestati con l'accusa di aver causato gravi lesioni personali a Robert Maltby e vengono portati alla centrale per essere interrogati ovviamente tutti accompagnati da un genitore essendo ancora minorenni l'atteggiamento dei ragazzi però è a dir poco disgustoso diciamo perché per tutto il tempo nessuno di loro sembra prendere davvero sul serio quello che era successo ovviamente vengono interrogati tutti separatamente ma per tutto il tempo i ragazzi ridono, fanno battute e scherzano sull'accaduto la madre di uno di questi ragazzi, di Brandon Harris addirittura si mette a scherzare insieme a suo figlio durante l'interrogatorio sotto lo sguardo confuso e quasi scioccato del detective come si dice la mela non cade mai lontana dall'albero dagli interrogatori non viene fuori nulla perché nessuno dei ragazzi ammette di essere entrato nel parco quella notte e non avendo ulteriori prove per trattenerli tutti e 5 vengono rilasciati ma per fortuna vengono di nuovo arrestati tutti e 5 una settimana dopo questa volta per l'aggressione a Sophie Lancaster anche dopo questi interrogatori però non viene fuori quasi nulla e i tre ragazzi più grandi del gruppo vengono rilasciati di nuovo ma non i due più giovani quindi Ryan Herbert e Brandon Harris loro rimangono alla centrale e il motivo è che la polizia aveva scoperto che quello non era il primo crimine di cui i due ragazzi erano accusati si scopre che non molto tempo prima i due erano stati denunciati per aver aggredito fisicamente una persona per strada prendendola a calci e pugni quindi insomma nonostante la loro giovanissima età sembrava fosse proprio nella loro natura essere violenti senza motivo contro la gente che passava intanto i medici della terapia intensiva dell'ospedale continuano a prendersi cura di Robert e Sophie ogni giorno e Robert fortunatamente dopo 10 lunghissimi giorni di coma si sveglia e nonostante i danni subiti e la testa a seguito dell'aggressione sembra riprendersi molto rapidamente purtroppo non ricorda assolutamente nulla di quella notte e quindi non può diciamo aiutare nelle indagini o fornire nessuna informazione utile alla polizia Sophie invece d'altro canto non stava facendo assolutamente nessun progresso le sue condizioni peggioravano giorno dopo giorno e non sembrava dare nessun segnale positivo mentre scrivevo questo caso mi sono imbattuto in alcune foto di Sophie mentre era in terapia intensiva quindi se deciderete anche voi di fare ricerche dopo aver visto il video state attenti perché le foto sono facilmente reperibili anche su Google Sophie era ridotta malissimo era quasi irriconoscibile sul suo volto si vedevano ancora le impronte di scarpe trasformate adesso in lividi per via della violenza degli aggressori le sue orecchie erano nere gonfie e ricoperte di pusti in alcuni punti per via delle infezioni causate dai colpi intere ciocche di capelli le erano anche state strappate al punto da lasciarle parte del cranio visibile cioè davvero bruttissimo Sophie quindi viene spostata in un'altra unità per essere sottoposta a ulteriori test per monitorare la sua attività cerebrale e purtroppo i risultati parlano chiaro non c'era alcuna attività cerebrale il suo cervello era già praticamente morto la ragazza continuava a respirare solo grazie all'aiuto del macchinario riprendersi dal coma sarebbe stato praticamente impossibile e anche se ci fosse riuscita non avrebbe più potuto condurre una vita normale e così il 24 agosto 2007 Sophie Lancaster viene staccata dal supporto vitale e dichiarata morta alla giovane età di 21 anni e dopo 13 giorni di coma farmacologico Robert Maltby viene dimesso e torna a casa ma ci torna da solo senza la sua fidanzata senza la sua Sophie i cinque ragazzi accusati dell'aggressione vengono nuovamente arrestati ma questa volta con l'accusa di omicidio la polizia ottiene anche un mandato di perquisizione per perquisire ovviamente tutte e cinque le abitazioni degli aggressori nel tentativo di trovare qualche prova che potesse ricollegare i ragazzi effettivamente all'omicidio considerate che erano passate ormai due settimane da quella notte quindi i ragazzi in realtà avrebbero avuto tutto il tempo per sbarazzarsi di eventuali prove ma a quanto pare non erano nemmeno svegli oltre a essere dei bulletti senza valori infatti in una delle case dei ragazzi e purtroppo nelle fonti non sono riuscito a trovare quale casa vabbè viene ritrovato un jeans con degli schizzi di sangue ovviamente questo jeans viene portato subito ad analizzare il sangue viene portato ad analizzare e i risultati non lasciano spazio a nessun dubbio il sangue apparteneva a Sophie Lancaster e Robert Maltby i ragazzi vengono tenuti in custodia e viene permesso loro di fare alcune chiamate e qui uno di loro fa una mossa veramente da ragazzino ingenuo uno dei più piccoli del gruppo, Ryan Herbert decide di utilizzare la telefonata per chiamare sua madre non pensando minimamente che intanto la polizia stesse ascoltando e registrando tutto così durante la conversazione la madre di Ryan lo rassicura dicendogli di non preoccuparsi perché se lui non aveva fatto niente la polizia non avrebbe potuto accusarlo di nulla no? se non c'entrava niente con tutto questo casino tranquillo no? ecco è in quel momento che Ryan risponde mom, I did it, I killed her ovvero mamma sono stato io l'ho uccisa a questo punto gli interrogatori si fanno molto più intensi perché come abbiamo detto i ragazzi sono accusati di omicidio e inevitabilmente tutti e cinque cominciano a darsi contro i tre ragazzi più grandi del gruppo quindi Daniel Mallet e i fratelli Joseph e Danny Holm cominciano a cantare come si suol dire e questo perché loro tre avevano avuto diciamo un ruolo più marginale durante l'aggressione nel senso che si erano limitati a qualche spintone o un paio di calci ma a quanto pare i veri autori del gesto coloro che si erano accaniti con una violenza inaudita contro i poveri Robert e Sophie erano stati proprio i due più piccoli del gruppo Ryan Herbert e Brandon Harris i tre ragazzi più grandi decidono di accettare un patteggiamento e quindi di confessare tutta la verità di ammettere di aver aggredito prima Robert Maltby e poi Sophie Lancaster cosa che avevano sempre negato fino a quel momento e lo fanno al fine di poter scaricare poi tutta la colpa delle aggravanti a Ryan e Brandon in poche parole piuttosto che essere tutti incriminati di omicidio decidono di essere incriminati solo per l'aggressione e incolpare invece gli altri due per l'omicidio di Sophie a quel punto gli agenti si concentrano ovviamente su Ryan e su Brandon ma questo risulta essere più difficile del previsto Brandon si rivela da subito più disponibile a parlare questo perché anche lui aveva avuto un ruolo più marginale rispetto a Ryan perché come detto anche dagli altri del gruppo era stato proprio Ryan ad accanirsi maggiormente su Sophie era stato lui a tirare le calci in faccia fino a lasciarle letteralmente la sua impronta stampata sul viso e era stato lui a saltarle sulla testa ma anche dopo le dichiarazioni di Brandon gli agenti non hanno abbastanza prove per incriminarli i due vengono trasferiti in un centro di detenzione giovanile e così la polizia decide di fare qualcosa che forse avrebbe potuto rivelarsi utile decidono di installare delle micro spie all'interno del furgone nel quale i due vengono trasportati nel centro di detenzione in modo che tutta la conversazione tra Ryan e Brandon venisse registrata e quello che viene fuori è esattamente ciò che la polizia sperava un racconto chiaro e dettagliato di cos'era successo quella notte a Sophie Lancaster una vera e propria confessione ad un certo punto Ryan fa anche un commento su come abbia preso a calci la testa di Sophie dicendo di averlo fatto come se fosse un pallone da calcio affermazione che non fa altro che scavargli la fossa cioè si è scavato la fossa da solo i cinque ragazzi vengono portati al processo e Ryan ovviamente spetta l'esito peggiore la difesa del ragazzo tuttavia comunica che il suo cliente probabilmente era autistico così e per questo motivo non avrebbe potuto essere accusato di omicidio volontario aggiungendo che sarebbe stata necessaria una perizia per valutare il suo stato mentale quindi viene chiamato uno psichiatra esperto di autismo per valutare la situazione di Ryan e quello che esce fuori è che Ryan non è autistico ma questo già lo immaginavamo tutti perché nessuno di questi ragazzi aveva alcun problema erano solo dei mostri travestiti da adolescenti così il 10 marzo 2008 inizia ufficialmente il processo dei cinque e durante la prima udienza Ryan Herbert ha fatto una cosa che nessuno si aspettava si è alzato e si è dichiarato colpevole dell'omicidio di Sophie Lancaster per tutto il tempo Ryan aveva sempre negato tutto anche la stessa aggressione mentre ora nel momento del processo si era addirittura dichiarato colpevole dell'omicidio prendendosi praticamente tutta la colpa del crimine questo ovviamente manda anche un po' in crisi la difesa degli altri ragazzi perché automaticamente questa sua confessione rendeva tutti gli altri meno colpevoli tra virgolette quindi avrebbero dovuto cambiare la strategia in fretta fatto sta che alla fine non voglio stare a concentrarmi molto sul processo i tre ragazzi più grandi del gruppo vengono accusati solo dell'aggressione di Robert Maltby mentre i due più piccoli del gruppo vengono entrambi accusati dell'omicidio di Sophie Lancaster l'accusa in aula per ricostruire quello che era successo porta ovviamente tutte le dichiarazioni dei testimoni i risultati del test sui pantaloni quindi il fatto che il sangue fosse dei due ragazzi alcune riprese delle videocamere e anche le loro stesse confessioni è stato proprio Brandon Harris ovvero il più piccolo del gruppo a dare il via all'aggressione quella notte secondo le ricostruzioni è stato il primo a sferare un pugno a Robert Maltby e subito dopo gli altri quattro ragazzi si sono uniti a lui per picchiare Robert fino a fargli perdere i sensi dopo averlo picchiato tutti e cinque si sono allontanati ed è allora che Sophie si è avvicinata a suo fidanzato prendendogli la testa tra le braccia e urlando chiedendo aiuto a quel punto Brandon Harris e Ryan Herbert hanno deciso di tornare indietro per prendersela anche con Sophie mentre i tre ragazzi più grandi sono rimasti lì a guardare Brandon Harris viene dichiarato colpevole dell'omicidio di Sophie Lancaster e condannato all'ergastolo con un minimo di 18 anni mentre Ryan Herbert viene condannato all'ergastolo con un minimo di 16 anni gli altri tre ragazzi del gruppo si sono dichiarati colpevoli dell'aggressione a Robert Maltby Daniel Mallet è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione mentre i fratelli Joseph e Danny sono stati entrambi condannati a cinque anni e dieci mesi la madre di Sophie Silvia a seguito del processo creerà una fondazione chiamata Sophie Lancaster Foundation una fondazione che ha l'obiettivo di abbattere i pregiudizi l'odio e l'intolleranza nei confronti delle categorie più sensibili più deboli tra virgolette l'obiettivo di questo ente è educare i bambini alla tolleranza per renderli in futuro degli adulti più consapevoli e per fare in modo che crimini d'odio di questo tipo non ricapitino mai più Silvia però purtroppo è morta il 12 aprile del 2022 e sul sito della fondazione di Sophie lei è stata dedicata una pagina per ricordare il meraviglioso lavoro svolto da lei di cui voglio riportarvi una parte perché è davvero molto bella dopo l'omicidio di Sophie Silvia sapeva che condividere la sua storia sarebbe stata l'arma più potente che aveva per influenzare il cambiamento in questi 15 anni Silvia ha lavorato instancabilmente per promuovere il messaggio di celebrazione della diversità trasformando così la sua tragedia personale in una forza per il bene la storia di Sophie non sarà mai dimenticata e la fondazione continuerà nella sua missione di eliminare i pregiudizi l'odio e l'intolleranza ovunque so che siete curiosi quindi spendo anche due parole su Robert a seguito dell'aggressione ovviamente ha dovuto superare un periodo molto buio e affrontare diversi traumi e per lui è stato davvero difficile inserirsi di nuovo nella società trovate anche una breve intervista su YouTube in cui racconta la sua vita a seguito dell'aggressione e parla anche di come è riuscito a superare il lutto e pian piano a ritrovare la forza di fidarsi di nuovo delle persone Robert comunque si è laureato alla Manchester School of Art e su Instagram trovate facilmente il suo profilo in cui condivide le sue opere e con questo ragazzi direi che non ho altro da aggiungere sul caso di oggi se non che sia trattato di una storia che mi ha davvero fatto incazzare immaginate prendersela con qualcuno solo perché si veste in un certo modo solo perché lo percepite diverso ma poi un accanimento davvero senza senso Sophie e Robert hanno passato dei momenti terrificanti per colpa dell'ignoranza e dell'odio due condizioni che messe insieme hanno provocato questo e purtroppo tantissimi altri casi simili io spero davvero che la storia della povera Sophie possa insegnare anche ai più piccoli che l'odio la violenza le bravate non sono mai la risposta a nulla detto questo amici io spero che in qualche modo vi sia piaciuto passare del tempo con me anche oggi se è stato così ricordate di lasciare un mi piace al video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di ora ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che molto presto parleremo di un detenuto che da molte persone è stato definito come il più pericoloso anche la sua sarà una storia che vi farà parecchio incazzare ma anche riflettere come quella di oggi spero quindi che rimarrete nei paraggi iscrivendovi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricordati che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao